Ci troviamo nell'eremo di San Barnaba in Gamogna, nel comune di Marradi, uno dei luoghi più suggestivi sulle vie di Dante, uno dei luoghi anche più difficili da raggiungere, un luogo suggestivo di grande interesse e che viene raggiunto attraverso molti sentieri di trekking, tra cui il cammino di Dante che andrà ad intersecarsi appunto con le nuove vie di Dante, un luogo di cui adesso vi facciamo vedere anche l'interno della chiesa, sicuramente molto molto suggestiva nella sua semplicità e che rappresenta uno dei punti più amati dai marradesi. Questo è l'interno della piccola chiesetta dell'eremo di Gamogna, come potete vedere una chiesetta spoglia, molto semplice ma nello stesso tempo molto molto bella.